Il primo obiettivo, se dovesse arrivare a sedersi sui banchi dell'Assemblea Legislativa delle Marche, è una proposta di legge per i giovani costruita con i giovani. È quanto annuncia Manuela Bora, commercialista di 29 anni, in corsa con il Partito Democratico, per il momento è la più giovane candidata alle elezioni regionali. Il prossimo 26 aprile a Montesambito lancerà la campagna elettorale e punterà a gettare le basi per la prima proposta da portare in Consiglio. Vi invito tutti i giovani non solo a partecipare all'apertura della mia campagna elettorale il 26 aprile a Montesambito alle ore 18. Sarà un'occasione per accogliere tante idee da parte dei giovani, per costruire insieme la prima proposta di legge. Ho dato la mia disponibilità perché rivendico il diritto della mia generazione, che è quella che dal secondo dopoguerra vive un momento storico più drammatico, di essere rappresentata in Consiglio regionale e di avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardano il nostro futuro. Tra le stanze credo che non si possa non pensare alla disoccupazione giovanile, ma da commercialista penso anche alla difficoltà di chi fa impresa, di chi cerca di offrire posti di lavoro. L'accesso al credito è difficilissimo e anche il passaggio generazionale non è incoraggiato. Pensate che l'anno scorso, nel 2014, nelle quasi 10.000 imprese che si sono create, quasi un terzo era guidato da imprenditori under 35. Poi le donne? Sì, le donne sono quelle maggiormente colpite in quasi tutti i settori. Penso anche alla disoccupazione, vorrei lavorare fianco a fianco con la Commissione Pari Opportunità e cercare di aumentare anche la rappresentanza femminile che purtroppo nei consigli regionali è molto bassa.